La truffa del falso invalido sembra essere diventata una triste moda a Padova. Appena due giorni fa i carabinieri avevano sventato il raggiro messo in piedi da un uomo fuori dalla Basilica di Sant'Antonio che si fingeva zoppo e chiedeva donazioni a turisti e fedeli per i bambini poveri. Peccato che alla vista dei militari si sia miracolosamente messo a correre per fuggire ed evitare la denuncia. La stessa truffa però è stata sventata anche in pieno centro e ha portato alla denuncia di una coppia di romeni. Il foglio sequestrato dai carabinieri è lo stesso mostrato dal finto invalido fuori dal santo. Una pagina con il simbolo della carrozzina e la bandiera italiana e una tabella con provenienza e cifra versata dalle vittime usata per raggirare i malcapitati benefattori. Le ricerche in città del falso invalido si erano intensificate e così i carabinieri in piazza Cavura hanno individuato e fermato i due romeni, un trentenne di lingua spagnola e una venticinquenne. L'uomo sarebbe lo stesso che agiva in Basilica, lì si spacciava per zoppo, in piazza invece si fingeva muto. Lo conferma la testimonianza di una negoziante a cui proposto di fare una donazione. Armati di portadocumenti si erano divisi i compiti, il ragazzo approcciava i negozianti, la donna invece avvicinava i passanti in strada e in questo modo in poco tempo sono riusciti a racimolare 175 euro. Portati in caserma sono stati identificati e denunciati per sostituzione di persone e truffa aggravata. Per loro verranno proposte anche le misure del foglio di via da Padova e il DASP urbano che gli vieteranno il ritorno in città.